Poco tempo per recuperare, naturalmente c'è il turno infrasettimanale e con una squadra che già in Serie B era da Serie A e che ha confermato quello che ci si aspettava. Ti chiedi innanzitutto come ci arriva il Verona dopo la prova con la Juve e in vista di questo match che cosa ti aspetti? Ci troviamo davanti a una squadra molto esperta, con giocatori molto esperti che secondo me stanno facendo un ottimo campionato ma come tutte le partite che affrontiamo penso che noi sempre possiamo avere le difficoltà varie e se facciamo bene possiamo fare male ad avversario. Dopo la Juve tutti i giocatori mi sembrano che hanno smaltito bene, che hanno recuperato, non abbiamo avuto problemi con nuovi infortuni. Sulla base di questa tua risposta ti chiedo se tu non sei molto orientato di solito a fare del turnover. Questa volta cambiare qualcosa? Ti chiedo in particolare se ci sarà magari l'impiego dall'inizio di Darko Lasovic e di Megalveloso che da subentrati hanno fatto molto bene sabato sera. Sì, sì. Altro giorno quelli che sono entrati veramente hanno dato un slancio ulteriore. anche Viera, mi è piaciuto molto il mezzo e questa è una cosa molto positiva che adesso per prima volta possiamo cambiare. Cioè, interpreti un po' sono tre partite in una settimana e oggi abbiamo fatto l'anamento, domani faremo un'altra e poi faremo le valutazioni e sceglieremo, penso, quelli migliori. Non so se hai sentito la battuta che ha fatto Barak a fine partita. Ha detto che, insomma, se va avanti così, quando raggiunge il 100%, questo Verona vince lo Scudetto. È una battuta, no? È divertente Barak, no? Cioè, un ragazzo intelligente, pure divertente, gioca bene, perfetto direi. È certo che è una battuta. Io rimango con l'idea che noi anche altra sera abbiamo fatto tante cose positive, bene, ma anche tante cose dove assolutamente dobbiamo migliorare. È una squadra che penso che sta migliorando, sta crescendo. Non si sa ancora dove andrà, si riuscirà a mantenere il livello, alzarlo o abbassarlo. Questo vedremo, però l'importante è lavorare tanto e pensare che si può migliorare. Ovviamente era una battuta quella di Barak. Ti chiedo invece, stando alla realtà, se si riesce a fare il risultato pieno contro una squadra che ha messo un po' di difficoltà nella gara d'andata. Impareva che avessero giocato particolarmente bene lì con i due attaccanti, soprattutto gli esterni. Se fa il risultato pieno, si può dire che la questione salvezza è chiusa? Noi andiamo sulla nostra strada, abbiamo fatto tanti punti, va bene, finché non ti salvi non bisogna mai rilassarsi, ma non bisogna rilassarsi a prescindere, bisogna andare avanti. In questo momento abbiamo una buona classifica e siamo molto concentrati sulle partite, non sulle altre cose, cercare di migliorare il prodotto, cose che non vanno bene o mantenere quelle che vanno bene. Penso che partita di andata, me la ricordo, che comunque noi in quegli momenti avevamo tante problematiche, abbiamo sofferto, però mi ricordo anche che in fase di gioco, di attacco, abbiamo fatto dei bei gol. Mi aspetto una partita molto difficile. Dopo che hai firmato il contatto l'anno scorso, immagino che tu abbia avuto nella tua testa un'idea di come sarà il Verona, di come sarà il futuro del Verona. Poi in un modo o nell'altro questo futuro è partito, anche con un po' di fatica, anche con un po' di calma, e adesso ti chiedo se questa idea è ancora più dentro di te, cioè che il Verona abbia un bel futuro davanti, o se quello che è successo, insomma, questa idea l'ha un po' rallentata. Non so se mi sono spiegato, insomma, che il Verona ti immagini tu nel tuo futuro? Ma proprio te, come Ivan, io dice, per anche rispondere alla domanda, perché sei rimasto a Verona, Ivan? Perché immagino avevi anche tu delle ambizioni, insomma, mi sono un po' il casinato, però forse non mi sono spiegato anche. No, cioè io in questo momento sono molto concentrato sul quello che stiamo facendo. Io penso che veramente in un anno e mezzo abbiamo fatto cose che raramente si sono viste a livello... Cioè siamo partiti da molto basso come livello proprio di calcio, cioè... Siamo riusciti comunque tutti insieme, no? Crescere molto come livello societario, come giocatori, come modo di allenarsi, come staff, come tutto a livello professionale. Adesso, a prescindere, no? Cioè adesso è completamente diverso di prima. Cioè un giocatore che arriva adesso, che arrivava un anno e mezzo fa, è completamente diverso. Cioè adesso arriva in una situazione ideale per lavorare, prima non era così. E questo è bello, no? Cioè che riusciamo a lavorare così. Poi tu ti sei incasinato con la domanda e io con la risposta, mi sembra. Io volevo chiederti un po' della situazione, un po' dei recuperati, ecco, insomma, dei giocatori che hai recuperato di recente. Se hanno tutti i 90 minuti e poi volevo chiederti degli acciacati. Insomma abbiamo visto ad esempio Benassi che è rientrato nei convocati, poi è di nuovo uscito per problemi. Volevo chiederti un pochettino com'è la sua situazione. No, i 90 minuti non lo so, Tommaso, in senso, cioè Sturaro mi sembrava che ha fatto 55-60, che andava forte, che ha cominciato a calare in quel momento. Questo non lo sappiamo, neanche Viera e Ceccherini, non sai mai, no? Esattamente, però hanno recuperato, stanno bene, si allenano, cioè non pattiscono niente. Il Benassi ancora deve trovare il ritmo di allenamento, cioè fa un allenamento magari buono, poi giorno dopo non riesce ad allenarsi. Penso che deve trovare due o tre settimane normale, di continuità, per essere veramente preso in considerazione. Per adesso non riesce, cioè riesce a fare... Ieri abbiamo fatto allenamento, lui ha fatto allenamento buono, oggi non è riuscito a farlo. Per cui deve trovare lui, cioè una continuità di allenamento, di lavoro, perché io lo considero come uno del gruppo, no? Tornando sulla partita della Juventus dell'altra sera, tu hai detto alla fine che è giustamente molto soddisfatto, ma ci sono stati anche degli aspetti che ti hanno, chiamiamolo così, soddisfatto o meno, quindi ci sono stati degli errori. Qual è l'aspetto che hai visto sul quale magari dobbiamo migliorare, la squadra deve migliorare di più di quello che non è andato bene, tra virgolette, sabato sera? Cioè quello che mi è piaciuto è globalmente tutto, in senso di grande applicazione, grandi pressing, anche il modo di giocare specialmente, cioè a periodi un po', ma sia prima sia secondo tempo, dove comunque giochi contro grandissimi giocatori, perché ho visto certi delitte e certi che quando vai a analizzare la partita è impressionante, il modo di stare in campo, forza, tempismo, tutto. Non mi è piaciuto all'inizio, abbiamo regalato le situazioni, rivi sbagliati, passaggi sbagliati, falli laterali regalati, cioè le certe cose che paghi, non vanno bene, c'è passaggi anche sbagliati nelle situazioni comode, quando dice tutto tranquillo, non puoi sbagliare, noi li sbagliavamo, non vanno bene perché ti rompe il ritmo del gioco e sicuramente queste sono cose da migliorare.